Per il ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio e per altri che lo hanno preceduto, ma non per tutti, è una priorità. A pensarla come loro sono tanti, balneatori e non. La battaglia anti-Bolkestein, che prevede tra l'altro che siano messe a bando molte concessioni pubbliche, come quelle demaniali, è politicamente trasversale e trova adepti tanto nel centro-destra quanto nel centro-sinistra, con le dovute eccezioni. Per esempio quella dell'ex ministro Carlo Calenda, secondo il quale non è tollerabile che uno stabilimento di lusso, magari a Capalbio, paghi per un anno la stessa cifra che un solo cliente sborsa per tre mesi di ombrellone. Il movimento anti-Bolkestein però si è mosso compatto e a volte in maniera eclatante contro la minaccia europea. Anche i balneatori abruzzesi hanno promosso diverse manifestazioni pubbliche, portando ombrelloni e sdraio nelle piazze e davanti ai palazzi romani. Ovvio che esultino oggi dopo l'intesa raggiunta in Senato che consente la proroga di 15 anni dell'esclusione del comparto balneare dalla direttiva Bolkestein. Intanto serve questa moratoria per fare una legge quadro che sia una legge riconosciuta anche a livello europeo, che stabilisca una volta per tutti, dopo 70 anni, il vero codice del demanio turistico ricreativo. Poi a seguire dobbiamo anche sottolineare questo aspetto, questo entra nel maxi emendamento e noi nel momento in cui questo emendamento va con la fiducia non dovremo avere più problemi. Detto questo non è che noi abbassiamo la guardia, noi adesso ci aspettiamo che si inizi una vera riforma sulle spiagge. Devo dare atto a tutte le forze politiche, sia quelle di governo che quelle che stanno all'opposizione, che all'interno della Commissione Senato hanno lavorato tutti per il bene di questa nazionale dei balneatori italiani. Non a caso domenica pomeriggio alle due io insieme al Presidente e altri colleghi stavo a Montecitorio, a Capalbio un lettino costa 1000 euro, in Abruzzo un lettino costa 150 euro tutta la stagione. Se io vado a Portofino so di pagare una cifra. Ma questo però non deve essere legato al canone, il reddito dell'imbresi viene tassato dentro la denuncia dei redditi. È vero che va fatta una riforma anche sui canoni, è vero che va fatta. Ecco perché abbiamo bisogno di tempo per pianificare il territorio. Noi siamo le sentinelle del mare, tutte le famiglie vengono sui nostri lidi, ci sono famiglie intere che da generazione in generazione vengono al mare. Noi siamo cresciuti insieme ai nostri clienti.